mi è arrivato un pacco il mittente è molto interessante facciamo questo unboxing ragazzi allora prima di iniziare voglio ringraziare Francesco Svelto ragazzi io so cos'è allora è un fornitore italiano ragazzi conosciutissimo 3D Wrap beniamino Izzo Discovery Mission Series un po' di pubblicità mi piace queste cose qua apriamo ragazzi mi hanno mandato guanti da Simbracer ragazzi della 3D Wrap e ne sono orgoglioso fiero eccoli qua ragazzi io uso i guanti cioè si vedono male però ecco qua eccoli qua io uso i guanti lo sapete forse sono proprio fighi sapete perché ragazzi sono fiero ma fiero di me perché alla Pittle Cup sono partito 35esimo e sono arrivato 21esimo e dici vabbè cazzi il risultato sì perché ho fatto la best comeback ragazzi e quindi mi merito questo premio 14 posizioni scalate insieme è che saluto al grandissimo Mazz Racing che lui pure ha guadagnato 14 posizioni quindi abbiamo vinto il premio entrambi quindi complimenti anche a Mazz sono contento ragazzi perché lì c'erano mostri sagri cioè c'era Naska c'erano i team mostruosi avete seguito il video che ho fatto cioè era impensabile per me soltanto arrivare nella top 30 di che livello c'era e ho fatto 14 posizioni non sapevo che c'era questo premio e Francesco Svelto che ringrazio mi fa Fabri mi sa che hai visto hai vinto la best comeback infatti lo hanno confermato insieme a Mazz Racing e ho vinto questi glove questi guanti da sim racing della 3D Rap che ringrazio tantissimo per avermi mandati è stato ripeto un'esperienza veramente fichissima a parte il premio vinto che ovviamente fa sempre piacere proprio perché è stato un evento veramente molto figo da seguire vi invito a guardare le live di Naska sul suo canale Twitch lo ha pubblicato proprio oggi la sua gara su Assetto Corsa Competizione Mazz Racing sul suo canale anche è stato veramente molto divertente è stata una giornata fantastica insieme a Umberto Noto Mirko De Santis Alessandro K di Malatiti Sim Racing è stato veramente geniale veramente da ogni punto di vista è molto divertente e poi ciliegina sulla torta ragazzi il regalo di Natale è arrivato con questo Best Comeback yes ragazzi vi sento fiero ho portato a SD Shiba un altro premio Best Comeback se questo premio che ho vinto ti è piaciuto pollice in su lascia un commento iscriviti al canale ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao io intanto me li metto sti quanti la mazza è proprio figa ma sono proprio fighi eh poi vi vado a provare va bene ciao ragazzi cazzo posso fare golf ho proprio figli grazie a tutti